Osiris, informazione. Siete tutti pronti? Veramente... Tanaka, mi faresti un favore? Puoi dire qualcosa? Siamo arrivati fin qui. Ma la strada è ancora lunga. Facciamo un bel salto come sappiamo fare. E togliamo di mezzo chi ci intralcia. 90 secondi al punto di inserimento. E che Buck offra il primo giro quando torneremo. Se sopravviviamo, vi offro tutto il bar. Squadra Osiris. Semaforo verde. Arrivano! Arme di Sanghelios! Con me! Tirate le difese aeree! Scompare a terrazzo! Per Sanghelios! Sono arrivato le... E' morto! Chi è il prossimo? E' il saluto! Abbrugate gli altri! Ecco la prima delle difese aeree. Avanzate ed eliminatela. Falta orbite! Guardate che c'è che l'ho! E' il nucleo della difesa. Distruggetelo e disattivate il cannone. Eccellente! Libero! Spartan! Il protettore è all'altro capo della città. Ci sono altre postazioni antiaeree in quella direzione. Procedendo elimineremo le difese aeree. Buona fortuna, Spartan. Anche a te, Arrivano. L'Ame di Sanghelios! Oggi su Naion cadrò e con lei... I Covenant! A me, fratelli! Allora, Spartan. Da qui al protettore c'è un bel po' di strada. Muovetevi! Amici in arrivo dalla porta! Come sappiamo se il piano del dottor Alcico e il costruttore ha funzionato? Il protettore si muoverà. Dovremmo essere così vicini da saltare a bordo. L'Ame di Sanghelios! Tutte le navi a rapporto! Avuk impostazione! Oswut impostazione! Contatto visivo contraerea! Abbattetelo! Liberate spazio aereo per le l'Ame di Sanghelios! A tutte le navi! Fuoco mirato sulle forze aeree Covenant! Fatele precipitare in acqua! Lotta dell'Arbiter in arrivo! Abbattete le difese per dargli una possibilità! Non ci sono delle attrezzazioni per dargli una possibilità. Ma non non ci sono sempre più intenzione! Se non mi veniva! Non ci sono sempre più intenzione! No! Non ci sono sempre più intenzione! Si sono sempre più intenzione! nucleo energetico distrutto spartan lo calame di sanghelios qui difese aeree abbattute muovetevi c'è ancora molto da fare prendete di mira quel genio non c'è il gioco Capsule inserimento Covenant. Capsule inserimento Covenant. Gli Spartan hanno fatto altro spazio. Avanzate e fatevi sentire. Sto venendo alla porta! Sto sparando! Sto sparando! Sto spazio! Sto faccio! Sto sparando! Sto spazio! Sto spazio! Credi che il costruttore ce l'abbia fatta in questo caos? Caso contrario, meglio che qualcuno trovi un'altra soluzione Secondo Alzi, il piano dovrebbe funzionare, fido Tre cannoni! Abbatteteli in fretta o perderemo il nostro passaggio Un'altra soluzione Fermate quella torretta! Per non occuparmi di questo! Cannone abbattuto! Ancora due! Disattivate i cannoni! Trovate la fonte d'energia o bersagliate i cannoni stessi! Secondo cannone! Ancora uno! Passate le armi da fuoco, fratelli! Secondo cannone! Ancora uno! Passate le armi da fuoco, fratelli! Muoversi veloci! In aiuto alla torretta! Dov'è l'alimentazione dell'ultimo cannone? Scudo! Non si entra! L'ultima fonte d'energia è dietro a quello scudo. Come entriamo? Spartan! Come procede l'eliminazione delle torrette? Te ne stiamo occupando! Francesca! Tutto che mi hanno avuto la fase d'energia è lo sono durante il giorno! Vengono! 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 Quello edificio, ultimo piano Non riesco a trovare nessun modo di oltrepassare lo scudo Ultimo cannone Ottimo lavoro Spartan Arbiter, cannoni disattivati nella nostra zona Le mie truppe vi proteggeranno Procedete verso il protettore Dovete raggiungere Master Chief in tempo Ok Arbiter Osiris, sgombrate la zona per far atterrare le forze dell'Arbiter Mi sento di nuovo come quando cacciavo una ragazzino Fanto malleato in arrivo Spartan Loc, passo Maki, ben ritrovati Le difese aeree stanno ancora presidiando i cieli tra voi e il protettore Troppe per permettermi di portarvi a destinazione Vi serve un'altra via Alla vostra attuale posizione c'è un passaggio per i sotterranei di Sunayon Che sbuca direttamente dal protettore Grazie Maki Osiris, secondo Maki c'è una via sotterranea Lo prendo subito di mira Forza Grun Colpito in pieno Loc Un ascensore per i sotterranei Non è una milita È solo una mano spaziale È morto Chi è il proprio Umani, qua giù Tutti sull'ascensore Buona fortuna laggiù, Spartan Arbiter Siamo diretti ai sotterranei Attenzione Prima di fare il balzo nell'iperspazio Il protettore rilascerà una serie di colpi concursivi Se allontanerete in tempo le navi dall'area I Covenant avranno la peggio Bitdoy e Onore non crescono da semitimi di Spartan Loc Il tuo raccolto sarà grandioso La prossima volta che vedrai Chief Porta gli miei saluti Lo farò, signore Loc, mai sentito un sanghelli parlare così o un umano? Cercherò di non esaltarmi troppo Dobbiamo muoverci Il protettore potrebbe partire da un momento all'altro Ed è l'unico modo per raggiungere Chief Lo lasciate per il balzo Arbiter E nella vede sanghiale un'opinità Ma chi dice che da qua giù raggiungeremo direttamente il protettore? Ricordatevi però che non avremo le lame di sanghelli o sadistrarre le truppe Tutto per raggiungere il protettore Guardatevi Capetata! Addio! E qui non passerete! Il protettore è ancora lontano Forza! Occhio dove camminiamo La discesa è ancora lunga Accesso diretto deve avere un altro significato a Sanghelios Sistemi fuori uso! Tutto per raggiungere il protettore La mia armatura è a pezzi Uno in me Sono di nuovo in piedi Grazie Non hai un baccadetto Non voglio stare a casa Il protettore è ancora lontano Forza! Occhio dove camminate La discesa è ancora lunga Accesso diretto deve avere un altro significato a Sanghelios Serve aiuto La mia armatura è a pezzi Sistemi fuori uso Ho bisogno di aiuto La mia armatura è a pezzi La mia armatura è a pezzi Il costruttore ha fatto il suo lavoro Presto il protettore si risveglierà Velocità doppia Osiris Il costruttore ha fatto che Un'altra Lecce Lo La 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 Siamo arrivati! Grazie per la visione. Grazie a tutti. 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 Arbiter, qui Spartan Lock. Mi ricevi? Spartan Lock, vicino al protettore. Urgite tutti! Arbiter! Non va bene. Dovremmo essere vicini al protettore. Possiamo aiutare l'Arbiter? Sì, ma non rischiando di perdere il protettore. Raggiungere Master Chief è più importante. Abbiamo perso il divertimento. Abbiamo perso il divertimento. Mi è tagliato! Mi è tagliato! Mi è tagliato! Rimpianto! Il protettore canta! Quanto tempo ci rimane? Basta. Velocità doppia, Osiris. Nell'oceano! Il protettore sta emergendo! Arbiter, il protettore... Il protettore non partirà senza di lui. Il vostro Osiris. Correte! Correte! Occhio a terra! Attenzione! Fra poco! Dai, dai! Muoviti, Spartan! Andate a destra! L'hai visto? Saranno prometteci. Ruller! Ce n'è un'altra! Veloci! Perderemo il passaggio verso Master Chief. Arbiter! Smart. Prometeci, in arrivo! Siamo quasi dal protettore. Nessuno ci fermerà. Liberate la via. Salite subito a bordo del protettore. Non mollate, Osiris! Siamo quasi al protettore! Terzo colpo! Il protettore sta partendo ormai. E come arriviamo fin laggiù? L'importante è che il protettore non se ne sia andato. C'è tempo. Sembra una buona idea! Sembra una buona idea! Non è stato costo. una granata una granata una granata Alla prossima! Che ci fa qui questo coso? L'abbiamo ucciso! Non perdiamoci in discussioni, annientatelo! Distruggeteli! No, non amico! Non mi arrabbi! Sono tuoi! Devi quali uso! Cavaliere mi abbranza che combattila! Ho bisogno di aiuto! Rucia! La mia armatura è a pezzi. Sono tornato. La mia armatura è a pezzi. La mia armatura è a pezzi. La mia armatura è a pezzi. Genesys! Genesys? La destinazione del protettore. Il protettore se ne va. Deve esserci in moda. Osiris, datevi una mossa. Mi avvicino agli scontri. State pronti. Muoversi! Siamo a bordo! Tenete duro! Apre gli occhi, dottore. Si perde il meglio. Ne sono due. Teniamo il conto adesso? Locke, ultima occasione. Pronti al tuo ordine. Ora! Fuori! Via libera! Fuori! 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 Tenete l'iffido all'ultimo. Oggi la luce deiomenant si spegnerà. Grazie per la visione!